Figuraccia della Giorgio Tesi Group a Trento, per fortuna una delle pochissime se non addirittura l'unica di questa stagione. Ma tant'è, la capolista resta in partita solo nel primo periodo di gioco, chiuso un vantaggio 24 a 21, poi pian pianino smarrisce la via del canestro ancora più preoccupante, smette letteralmente di difendere, concedendo ai padroni di casa 56 punti in meno di 25 minuti, finendo ben presto sotto di 22 lunghezze. 81 a 64 risultato finale che interrompe bruscamente la striscia positiva di 7 vittorie dei ragazzi di Paolo Moretti. Assenti ingiustificati stavolta i due Stranger Michael Hicks e Antonio Grace, praticamente fuori dal match dal primo minuto, ma tutta la squadra è sembrata in catalessi, tutti ad eccezione di Jack Galanda, 20 punti con 4 su 5 da 2 e 4 su 5 da 3, l'unico ad essersi salvato dal grigiore generale. Dall'altra parte, assente Pascolo per infortunio, la formazione di coach Buscaglia si è affidata soprattutto al gioco esterno, alle ottime percentuali da 3 punti alla grande serata di Luca Garri, 27, e di Michael Hume, 16. Trentini bravi anche nei rimbalzi d'attacco. In casa Biancorossa un solo sussulto sul finale del terzo tempino con Meini e compagni capaci di arrivare a meno 11. Troppo poco per rimettere in sesto quella che doveva essere la rivincita della finale di Coppa Italia che invece è terminata con un'altra batosta. Ovviamente nessun dramma in casa pistoiese, ma è probabile che la squadra di Moretti arrivi allo sconto più importante della regular season con Barcellona. Venerdì prossimo al Palacarrara, quello che vale presumibilmente il primo posto, con solo due lunghezze di vantaggio in classifica sui siciliani, a meno che Domenica Iesi non faccia un mezzo miracolo.